Allora vi faccio vedere una cosa, un video recentissimo di Ballanzoni, i puffi e l'ordine sociale si intitola. Piccola riflessione serale che contiene una sorta di grande verità, vi ricordate ai tempi anni 80 i puffi? I puffi avevano una società in cui ogni puffo aveva un ruolo e rispettava quel ruolo, il puffo falegname faceva il falegname, il puffo fornaio faceva il fornaio. Nessuno puffeggiava in ambiti che non fossero suoi, voglio intendere, se ognuno avesse contribuito per quello che doveva, non solo che poteva ma che doveva per il ruolo sociale che aveva, tutta la questione, cioè Gargamella sarebbe rimasto sconfitto, distrutto nel giro di poche settimane. Invece che cosa succede quando tutti puffeggiano in campi, non loro a cominciare dai giornalisti, dai faccette, non so cosa voglia dire, insomma poi i falliti che non sono riusciti niente, allora vanno a caccia delle cosiddette fake news, che sono poi le real news. Non dovremmo muterire tutte per gli effetti del vaccino, eh no, non abbiamo ancora puffato. E cosa abbiamo qua? Qua abbiamo un franco battaglia. Cari amici di Visione TV, benvenuti ad un nostro nuovo appuntamento del business della transizione energetica. Sono arrivati al punto da demonizzare quelli che osano mettere in dubbio questi mutamenti, definendoli pericolosi, negazionisti, climatici. Alcuni cominciano a chiedere persino le manette. Ecco, c'è un po' di isteria forse intorno a questi temi. Beh sì, proprio guarda, proprio sul giornale di Repubblica di ieri c'era scritto, c'era questo articolo che titolava l'allarme dell'ONU e l'allarme sarebbe che l'80% dei migranti migrano a causa del cambiamento climatico, no? Sì, l'abbiamo letto e l'abbiamo spottuto ieri a dovere, visto che se è globale non sappiamo in quale pianeta migreranno. Cioè, allora veramente, o lo fanno apposta? Cioè, si usa proprio il termine cambiamento climatico per non confondere con riscaldamento globale. Vuol dire che globalmente si assiste a dei cambiamenti del clima, no? E poi sicuramente il cambiamento climatico fa sì che i paesi più indietro, industrialmente, facciano più fatica ovviamente ad ammortizzare i danni rispetto ai paesi cosiddetti sviluppati, no? Quindi questa è la ragione della migrazione, no? Dei migranti climatici, anche questo è un fenomeno studiato. Loro ci ridono su e ridicolizzano generalizzando, diciamo, eccessivamente, ecco. Perché, cioè, l'ABC, manca proprio l'ABC qua. No, bravissimo, perché il mio commento che immagino uscirà su un articolo sulla verità in questi giorni, perché l'ho già mandato, è proprio questo. Se c'è questa gente che migra da un punto del pianeta ad un altro, per ragioni climatiche, vuol dire che in questo punto del pianeta, dove migra, ci sono condizioni climatiche ottimali. Ora, il problema è questo, che se da qualche parte del pianeta ci sono condizioni climatiche ottimali... No, economicamente soprattutto sono ottimali le condizioni. la ragione, quello che di conseguenza, di necessaria conseguenza, da qualche altro punto del pianeta ci sono condizioni climatiche meno ottimali. Non ha capito un cazzo. A volte anche miserabili, a volte anche insopportabili. E questo perché? E perché la Terra è tonda, l'asse di rotazione è inclinato sull'eclittica. L'angolo di inclinazione non è costante. L'orbita terrestre non è ellittica. La distanza tra aferio e perielio, la differenza tra aferio e perielio, non è costante. Insomma, questi qui, cosa vogliono fare per modificare il clima? Vogliono raddrizzare l'asse terrestre? Vogliono cambiare l'orbita? Che cosa vogliono fare? Non si sa. Perché se ci sono zone dove il clima è ottimale, ci devono essere necessariamente altre, dove non lo è, per le ragioni che ho detto. Quindi avete fatto bene a sbotterli, ma è uno sbotto che viene quasi automatico. E quindi il timore è che la CO2, in quanto gas serra, è un gas serra minoritario, perché il principale gas serra è l'acqua, in quanto il gas serra potrebbe far aumentare le temperature del pianeta in modo disastroso. Ma non è che è quello che lo stiamo mettendo in eccesso? Dicono che negli ultimi 150 anni la temperatura... Perché l'abbiamo vista, proprio c'è una correlazione tra le due cose, rispetto a tutti gli altri fattori che sono totalmente sminchiati, no? Agli osi avevamo fatto vedere i gradi... La temperatura è aumentata di un grado e attribuiscono questo aumento appunto alla CO2. Senonché le cose non possono stare così. E perché? Allora, primo, il pianeta è stato più caldo di oggi. Su Franco Battaglia, sì, c'è stata il periodo caldo medievale, il periodo caldo romano, il periodo caldo oligenico... Tutte cose che sono irrilevanti rispetto al picco che abbiamo noi di aumento di temperatura dovuto all'attività industriale. Cioè, proprio non è paragonabile, anche per tempi... Temperature di 2-3 gradi superiori a quelle attuali. Poi, il cosiddetto caldo romano, poi non è che è globale, riguarda alcune aree. La temperatura più alta è già occossa, senza che fosse avvenuto alcun disastro, tanto per cominciare. Poi, l'attuale riscaldamento è un riscaldamento dovuto alle emissioni antropiche per combustione di combustibili fossili? Sì. La risposta è no. Però il 99% degli scienziati l'hanno visto. Perché nei periodi di massima emissione di CO2, parlo del dopoguerra, dal 1940 per 40 anni successivi, sino al 1980, la temperatura del pietro in realtà diminuiva. Tant'è vero che dopo 30 anni di diminuzioni, negli anni 70, tutte le agenzie scientifiche, tutti i giornali di cronaca, temevano per quella che si chiamava allora imminente era glaciale. E questa è una cazzata. In 1980 le temperature hanno preso a salire e l'allarme global cooling è diventato allarme global warming. Esatto. Ma da 2000 a oggi, soltanto che sulla base di questo falso colossale, no? Tanto falso come... Il falso colossale è quella compartina dove avrebbero titolato che c'era il freddo imminente e cose del genere. Ti posso chiedere una cosa? Perché questo è il passaggio che mi pare degli stessi. Ma chi è che ha stabilito che c'è un nesso tra CO2 e aumento delle temperature? Chi l'ha stabilito? La letteratura, la letteratura mondiale. Tipo il 99% oggi sappiamo degli scienziati che se ne occupano hanno visto sta roba. La coppia di quest'anno sarà la coppia 28. Ma quando ci fu la coppia 6 all'AIA, quando io cominciai allora a scrivere sul giornale, scrivevo... Tu dovessi pubblicare nelle riviste scientifiche, fare ricerca in merito. Va bene, grazie, professore Franco Battaglia, per essere stato con noi. Lo ringraziamo davvero. La carta igienica ce l'ha scritta. Libra e preparata in un panorama complessivo che fa piangere. Quante ne sa Battaglia, raga, veramente. Si imparano tante cose ascoltando le interviste di Battaglia.